Ok, vediamo stasera Easy Diffusion che è una distribution che si può installare sul proprio computer e che permette di accedere a Stable Diffusion senza nessun servizio online quindi cerchiamo Easy Diffusion otteniamo la prima che è quella su GitHub clicchiamo su questo, otteniamo la Easy Diffusion che è effettivamente la versione che in questo caso è dell'11 luglio andiamo a cliccare e abbiamo sostanzialmente questa versione per Windows che è un .exe quindi noi lo scarichiamo salviamo il link con nome Easy Diffusion Windows.exe e quando Easy Diffusion.exe è effettivamente scaricato provvederemo a lanciarlo è un One Click Experience quindi è abbastanza veloce decisamente interessante in realtà poi è un pochino lento puoi partire soprattutto la prima volta ma adesso vedremo ok, è arrivato andiamo a vedere qua sotto sotto il download andiamo a vedere che è scaricato 2 GB ora lanciamo il .exe che ci è arrivato e se tutto va bene dovrebbe chiederci adesso dove installarlo ecco che ci presenta Easy Diffusion 2.5 setup facciamo il solito next I agree I agree e poi ci chiede dove vogliamo installarlo e installiamolo sotto un punto tipo di Easy Diffusion facciamo install lasciamolo fare tutta l'estrazione ok, sarà pure Easy Diffusion ma è molto lento sul mio computer ci ho piegato circa mezz'ora ad arrivare a questo punto gli diciamo se volete di lanciarlo subito e così vediamo subito come funziona il Easy Diffusion 2.5 lanciamo in teoria tutto il tempo di installazione che ha fatto adesso dovremmo risparmiarcelo allora cioè dovrebbe partire nella versione precedente invece a questo punto lui scaricava i modelli e impiegava parecchio tempo quindi lancia l'ambiente Python che è fondamentale per lavorare con intelligenza artificiali e si interrompo perché ci impiegherà anche qua secondo me un po' di tempo soprattutto la prima volta no, però aspettate sto facendo il check out quindi adesso interrompo ma dovrebbe pegarci poco ok, come temevo ci ho impiegato sui tot e binuti comunque la cosa principale è che si entra in questa mascherata Easy Diffusion nel mio caso 2.5 per un tot poi forse un po' di più perché sareste probabilmente in un modello più avanzato e quello che è interessante è che possiamo già usarlo adesso nel senso che possiamo fargli make 4 images tra l'altro qui sono anche i settings e i settings ci sono una serie di cose che per esempio gli dicono di usare la CPU e non la GPU ma diventa molto lento ricordiamo che per usarlo dovete avere una scheda grafica interessante quindi almeno una scheda dedicata possibilmente Nvidia io ho una 1080 e sulla 1080 diciamo funziona abbastanza ok, torniamo sul Generate facciamo il default che è Photograph of an astronaut hiding a horse vi ricordiamo che mentre avete aperto il programma sul browser che vi ha aperto una finestra ci avete praticamente anche qua il in fondo diciamo lo stato del vostro del vostro programma e quindi nel momento in cui gli dite di fare 4 immagini ad esempio della famosa astronauta che cavalca un cavallo vedete che se andiamo qua vedete che c'è effettivamente l'attività in corso vi abbiamo chiesto di farne 4 quindi dovrebbe farne 4 di queste immagini di queste barre quindi vedete che che le fa non so se la seconda o la terza comunque si fa le immagini e ecco quando inizia a fare le immagini vi fa vedere le immagini mentre le sta facendo il che è molto interessante perché permette di vedere tranquillamente l'immagine fatta e questo è stable diffusion 1,4 quindi a sinistra vi fa vedere l'immagine diciamo normale la destra quella amplificata quindi c'è praticamente tutte le varie fasi e quindi possiamo possiamo fare i nostri esperimenti potete fare i vostri esperimenti io adesso faccio così stop all perché voglio interrompere i task e gli metto ecco vedete che c'è un campanello che avverte quando ha finito qui abbiamo il positive prompt e il negative prompt quindi qui possiamo dirgli invece che l'astronauta possiamo dirgli diciamo un fantastic fantasy medieval space qui magari ok lasciamo il negative così com'è e gli diciamo di fare le quattro immagini le quattro immagini le fa perché qui c'è scritto numero images 4 però possiamo mettere uno quindi facciamo nel video che fa solo un'immagine facciamo make image l'immagine vedete che è qua sopra quindi lui la encoda e quindi mentre la costruisce potete vedere che appare praticamente l'immagine mentre la sta facendo quindi all'inizio è molto molto informe ma alla fine abbiamo l'immagine conclusiva e questa è un'immagine che è fatta a fantasy medieval space e potete fare vedete la differenza tra queste due immagini è che se faccio apri l'immagine su un'altra scheda quello di sinistra è piccola se invece apro l'immagine di destra apri l'immagine su un'altra scheda appare dovrebbe apparire in teoria un po' più grossa anche perché gli abbiamo chiesto l'immagine 1512 e noi possiamo però degli che vogliamo un'immagine 1024 per 1024 per avere la stessa immagine fantastic fantasy medieval space high contrast photo realistic era giusto per avere un'immagine un pochino più dettagliata quindi vediamo che viene elaborata l'immagine quando inizia a elaborare l'immagine vedete che è un po' più grossa questa rispetto a questa che è la metà è leggermente più lenta infatti ci impiega un po' di più ci impiega un minuto per fare questo meccanismo se lo lasciamo finire dovrebbe terminare con l'immagine tra un minutino quindi la vedremo ecco non è eccezionale dovete fare un po' di esperimenti però l'idea in realtà non è di andare sul 1024 ma di partire sul 512 in modo tale che la velocità sia un pochino umana e poi di abilitare invece lo scale up e poi gli diciamo di mostrare soltanto l'immagine corretta non quella prima e quella dopo e magari diciamo fantasy medieval knight quindi un cavaliere medievale e adesso dovrebbe essere un pochino più veloce perché l'immagine è piccola poi viene amplificata solo alla fine quindi viene usata dimensione 512 vengono usati tutti questi modelli che sono Stable Diffusion 1.4 viene usata tutti questi prompt quindi tutte queste informazioni e qui abbiamo l'immagine che si forma e vedete che abbiamo l'immagine che man mano si forma e diventa compatibile con il nostro prompt e a questo punto possiamo vedere apri l'immagine in un'altra scena in un'altra cosa vedete che l'immagine è effettivamente grossa 1024 per 1024 che è quello che ci interessa adesso la qualità probabilmente non è la migliore per vedere delle belle scene di solito si introducono Attractive Medieval Night Dramatic Light Attractive già prometto di vedere Fantasy Attractive Medieval Night Smiling quindi in questo modello si obbliga a presentare un volto ad esempio si può fare un close up di qualcosa da vicino e ripetiamo l'esperienza e vediamo se riusciamo a vedere un cavaliere medievale un pochino più diciamo un po' più interessante li abbiamo forzato con close up li abbiamo messo fotorealistic ok è un close up un po' più fotorealistic ma vedete che c'è ancora l'armatura quindi se non si vuole l'armatura si deve togliere dal prompt quindi armature helm quindi togliamo l'armatura e il iron e mettiamo eventualmente uno stile quindi style style comic book quindi vediamo un po' cosa esce da quest'ultima quest'ultima inquadratura però vedete che sostanzialmente abbiamo stable diffusion nella versione vecchia che gira sul vostro computer adesso aspettiamo qua ok vedete che è già diversa quindi abbiamo una specie di selfie è fatta mi hanno detto style comic book quindi sono cavalieri medievali ok che si stanno facendo evidentemente un selfie allora questo è tutto vi ringrazio e vi ricordate easy diffusion che tra l'altro easy diffusion era noto in un altro modo prima easy diffusion se andate a cercare easy diffusion si chiama comunque stable diffusion UI o qualcosa del genere è difficile trovarlo però comunque ha cambiato nome quindi in questo momento per riuscire a lanciare stable diffusion ricordate che una delle opzioni più semplici è easy diffusion e questo è tutto è tutto